Vai vai, salve sono Emilio, faccio parte di questa organizzazione Raduno PAN da 4x4 Offro a 2 del Madese, questa è la prima edizione che stiamo svolgendo, si ringraziano i nostri collaboratori e soprattutto chi ha partecipato a questa edizione e ha permesso da farsi di questo evento, siamo numerosi, vengono da molte parti, Roma, Salerno, Napoli e zone limitrofe di nuovo si ringraziano gli sponsor e eccoci qua, spero bene e alla prossima edizione Ciao